Confesercenti Versiglia scende in campo per dare il proprio apporto concreto al rilancio della città. Si chiama Agenda Viareggio 2015-2020, il documento elaborato dall'associazione presieduta da Esmeralda Giampaoli, presentato pubblicamente in comune e destinato in particolare ai candidati sindaco. Una sorta di appello alle forze economiche e sociali. È anche il frutto di un ragionamento, di prospettiva che non può non essere fatto se si decide di vedere quali possono essere le azioni correttive e le azioni che possono portare in qualche modo la nostra città fuori da un periodo che non è certo dei migliori, ma che comunque può presentare importanti spunti, importanti opportunità se si sanno cogliere all'interno della ricchezza che la città esprime. Agenda Viareggio è stata elaborata da tutte le categorie della Confesercenti e dunque racchiude proposte e suggerimenti su più fronti. Proposte ovviamente mirate all'adozione di politiche amministrative a livello locale, attive sui settori del commercio e del turismo, ma anche con chiaramente riferimenti a tutte quelle azioni trasversali, ad esempio sul tema della sicurezza e del decoro, che hanno delle implicazioni dirette poi sul turismo e sull'economia cittadina.